Quando vuoi, quando hai. Dal braccio della morte all'abbraccio della Toscana recita così la lapide di Gregory Summers sepolto nel cimitero di Cascina e in questo giorno importante la Toscana ha voluto ricordarlo ancora una volta. Toscana è terra di diritti, fu la prima ad abolire nel 1786 la pena di morte e oggi insieme a Michelangelo Betti e al sindaco di Cascina siamo venuti qui a ricordare Gregory Summers che fu giustiziato in Texas nel 2006 ebbe un lungo scambio epistolare con i ragazzi della scuola media di Navacchio grazie ad una professoressa che raccontò la storia di questo carcerato che stava per essere condannato a morte e il messaggio che oggi vogliamo mandare di qui è che non ci può essere giustizia lì dove c'è violenza non ci può essere ancora la metà degli stati al mondo che hanno la pena di morte venire oggi qui a salutare e ricordare Gregory Summers è un modo per dire che la Toscana è sempre dalla parte giusta della storia lo fa ricordando il passato e attualizzandolo al presente ed è un modo per chiedere che quello che accade ancora in tanti paesi del mondo non accada mai più grazie grazie